Ben trovati dall'ipodromo del Mediterraneo di Siracusa, giovedì 15 aprile dedicato al trotto con l'inizio della riunione alle ore 13.45, peraltro con il premio Enna che ha per dotazione l'interesse maggiore della giornata. Si va sul miglio per una condizionata, impegnati i cavalli di tre anni. Ci guardiamo direttamente al campo partenti, aperto dal numero uno di Carabella che deve rifarsi dall'ultimo pacco a prestazione, poi per il resto nel curriculum ha scritto tre vittorie. Cenerentola che viene da Taranto, peraltro vittoriosa, ancora Cannibal FI, reduce da vittoria sui 2200 metri dalle belle prestazioni. È stato un attimo sconfitto, sono arrivati secondi e terzi in un ultimo confronto da Chris Daza che è piuttosto regolare, quindi Sirano Rabba ancora che deve dimostrare sembra l'outsider di questa competizione. Clio che è comunque sempre positiva in questi contesti. Ci aiuta anche la sintesi effettuata dal nostro segretario corse Francesco Sirchia che impone come favorita il numero 4 di Chris Daza che dovrebbe andare in testa, alternativa il numero 1 di Carabella e il 3 di Cannibal FI, quindi il 6 di Clio, attenzione dice alla novità di Cenerentola. Andiamo dalla seconda corsa, ci aiuterà poi il driver allenatore Lorenzo Larosa per il premio Leon Forte. 2200 metri diventano selettivi, la distanza da affrontare, indigeni europei di 4 anni per una condizionata riservata a professionisti, sono otto i soggetti al via. E qui puntiamo il dito subito su Borislav Mabel, in grande spolvero da alcuni mesi, ormai forse teme più la distanza 2200 metri che non gli avversari. Il numero 1 di Boris Leone incline all'errore, poco ha fatto Boutique ultimamente, attenzione a Brunilde invece che ha un ottimo periodo. Ancora niente per Box, Baby Blue è un soggetto di mezzi, sfiora podi, se non sbaglia potrebbe essere un'alternativa per una piazza. Quindi Bloomberg B che ha pagato parte di questa compagnia aveva iniziato meglio, sta finendo un po' peggio. E poi l'alternativa vera è il numero 8 di Belfagor FI, reduce da due vittorie, vedremo come si comporterà. E abbiamo chiesto proprio a Lorenzo Larosa di dirci come affronterà la corsa. Francesco Sirchia in questa competizione vede il favorito tecnico, il numero 3, l'unico che possa impensierirlo è l'8, poi Brunilde perché è veloce, è il 6 come sorpresa. Sentiamo Lorenzo Larosa. E allora il calo sta bene, la corsa è leggermente impegnativa, io credo che qui il cavallo da battere sia il numero 3, Borislava Mabel, poi metterei il mio che sarebbe credo un bel match e poi proverei con il numero 6, Baby Blue. Sono 2200 metri, qualcuno potrebbe trovarsi meglio? Ma sai, Borislava è un cavallo che sulla lunga si esprime meglio, il mio sia nel miglio che sul doppio chilometro non ha problemi, si trova alla stessa maniera. Quindi poi ti ripeto c'è Baby Blue che è una cavalla che potrebbe contare, poi 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 poi, insomma per una piazza ci potrebbe essere Boutique, ci potrebbe inserirsi Brunilde, è una corsa aperta. Però io credo che i cavalli siano sia il mio che Borislava Mabel come match. Premio Barra Franca, 1600 metri da affrontare, una corsa affollata, 15 soggetti che partiranno dietro l'autostarter, una categoria G che dovrà affrontare il miglio con il numero 1 di Zenith Rock, è una novità così come novità che è anche un sogno grande, poi abbiamo il numero 2 di Audaces che rientra ma ha fatto poco qui a Siracusa. Zigoyank SM, Benino all'ultimo va citato, quindi Argocam che ha mezzi ma raccoglie poco, ultima sul doppio da cancellare poi bene per Zaira Truppo. Zellig Rab non concretizza da metà di febbraio, quindi Ardea Wise che potrebbe sicuramente far meglio in questo contesto, rientra anche a Ryan GV, vedremo se migliora rispetto alle ultime performance effettuate a gennaio. Royal Viking, benché alterno va citato, rientra anche Zoleal SM ma aveva fatto poco, quindi Ucci Ucci Play che può far bene, e qui con questi numeri da ora in poi abbiamo le alternative più valide per il premio Barra Franca e quindi Werner Lux positivo, Witton Ferme rientrato un brillantissimo Mattesio in progresso, Yunis che ha fatto bene in penultimo confronto. E anche qui sentiamo Lorenzo Larosa. Ucci Ucci Play. Sì, lui è un cavallo fantastico, un cavallo che purtroppo è sempre sfortunato con i numeri, prende sempre numeri alti, però è un cavallo che va, di conseguenza a me piace molto in questa corsa qui, proverei a mettere lui come base con Witton Ferme se riesce ad andare liscio e il numero, allora, come numeri noi facciamo 12 Ucci Ucci Play, 14 Witton Ferme, 15 Unions. Tutta seconda fila, dalla prima fila nessuno? Sì, poi sono corse, c'è un cavallo che potrebbe andare forte ed è il numero 5 Argo Cam, che vedo che sta cominciando a correre bene, quindi potrebbe starci. Premio Nicosia sul Miglio con gli allievi Insulchi, una condizionata da 1600 metri da affrontare in 10, numero 1 di Bayonne Alfalloso, quindi il numero 2 di Bellocam, che ha una buona linea con Bullux, Very Nice, piuttosto regolare, Bello Cam, atteso, non dispiaciuto all'ultimo, il numero 3 dello schieramento. Poi il numero 4 di Belinda La, che sa vincere se non sbaglia qui a Siracusa, poco ha fatto ma può partire bene Blue di Mary Bar, quindi Bounty B, discreto con il suo esordio, Bullux Very Nice resta una delle valide alternativa, non si è ripetuto nell'ultimo confronto, dopo questo secondo posto dietro a Bellocam, ma è atteso, quindi Blue Grass Front, che si attende da metà febbraio, vince, poi invece non si ripete, una rottura prolungata, è un sesto posto, quindi ci sta Bowlan Run. Sentiamo ancora Lorenzo Larosa impegnato con Bayonne. Ma purtroppo è un cavallo falloso perché è grandissimo, per caratteristiche tecniche non si adatta bene alla pista, è un cavallo che va forte, però purtroppo c'è la rottura facile per motivi proprio meccanici. Io non lo disdegnerei nel senso, se riesce ad andare liscio, è tra i cavalli da battere in questa corsa qui, perché ha tanti mezzi. Scegliamo allora il binomio allievi-cavallo, che ti piace? Sì, sì, alla fine sì, io proverei a mettere nella terna il mio, con Bellocam, il numero 2, e poi Blue di Meribar, che è una galla che parte forte, quindi potrebbe starci, e sempre inserirei il numero 7, Blue, Bullux Very Nice. Affrontiamo la seconda tris, il premio Piazza Armerina, una categoria che viene ad essere schierata con 13 soggetti al via, le categorie sono E ed F, parte il numero 1 di trailer, esordio a Siracusa, poi a Mordellolmo, non si è ripetuto dopo la vittoria che ha ottenuto sui 1600 metri, non si è ripetuto sui 2002, adesso ritorna sul miglio, chissà se migliorerà, rientra Vittoria Caf, qui il punto di riferimento sembra poi il numero 4 di Sacroget, che sbaglia l'ultima, ma poi ha veramente tanta regolarità in cardiera, una piazza alla portata di Vajanzac, alterno, macce, alzacaban, fonte, poi se non sbaglia anche Zonk di Girifalco, che ha anche il numero 7 di penalità. 8 di Tattoo, manca le ultime 3 competizioni, soggetto che ha tante potenzialità, non ripete la vittoria nelle ultime 2, Sayano Lod, sui 2200 metri è fatto strabene, Zoom LC, la forma c'è, Atasfein Sarra non raccoglie per quanto vale, Antartide, Clemar è una novità che manca dal dicembre 2020, quindi chiude il numero 13 di Zoraida Font, che ha fatto pochino, ha preso un quarto posto, potrebbe comunque lottare per una piazza. Dice Francesco Sir che il nostro segretario corsa è una corsa, questa premio Piazza Armerina alquanto aperta, la base è il numero 4 di Sacroget, il 7 è Zonk di Girifalco, se ha svolgimento favorevole, quindi l'8 di Tattoo, il 10 di Zoom LC, la sorpresa è il numero 5 di Vai Anzac, ma sentiamo anche Lorenzo Larosa. Ma come affrontarla? È una corsa apertissima, una corsa che parecchi cavalli possono starci, a me salta all'occhio il numero 4 Sacroget, è un cavallo che parte forte e credo che se vada avanti potrebbe essere il cavallo da battere. Poi proverei con il numero 6 Azkamban Font, il numero 7 Zonk di Girifalco. Seconda fila nessuno? La seconda fila non sta correndo male l'11 Atas Fighter Sun e il numero 13 Zerai de Font, insomma, per una giocata più ampia. Si chiude sui 2200 metri col premio a gira, la sesta competizione scatterà alle 16.15 con una condizionata e cavalli di 5 e 6 anni in pista. Il numero 1 di Aledef che ha fatto pochino, Maluccio all'esordio, Argo Jet, poco anche per Apesan, Zodekar Verinais, rientrato con un discreto quinto posto, adesso potrebbe essere atteso con qualche progresso. Non brillano il 5 al 6 dello schieramento, una novità viene da Napoli, è particolarmente chiacchierato, il numero 7 di Zuritos RL, falloso Aion Rab, discreta Atina e da qui iniziamo a citare i nomi che potrebbero andare per le piazze. Quindi Rompeway Alterno, Anytime B invece piace per forma, Alteir, Aldobar Aldobar Reduce da Vittoria, cavalli caratteriali, Artemisia Sgarra che anche se è calante va citata, Di Mezzi, Zenofont, Malassiracusa, Almapanne e Arabesche B non raccoglie sempre, praticamente alterna nella sua performance. Sentiamo Lorenzo Larosa impegnata con Chance perché è sul sulchi del numero 9, Atina. Sì, è una cavalla generosissima, si adatta a diversi schemi, capisco che siamo in sedici e qui correre in tanti diventa un problema. Se riesci a trovare uno schema tutto sommato favorevole è una cavalla che può contare perché va forte anche lei, quindi la metterei nella terna assieme a... Andiamo a cercare un po'. Allora c'è un cavallo che non conosco che è il numero 7, Zuritos RL, quindi non l'ho seguito. Novità chiacchierata che viene da Napoli. E quindi allora magari proviamo ad inserire la novità come base con la mia e Zeno Fonte il numero 14. E poi per una giocata più ampia proverei a mettere Arabesche B. Vi ricordo dunque il trotto all'ippodromo di Siracusa, giovedì 15 aprile, all'inizio 13.45, le sei corse in programma apriranno subito con la corsa di maggior interesse per Montepremi, il premio Enna 6.600 euro da dividere per cavalli di tre anni e la seconda trezza nazionale legata al premio Piazza Armerina. Arrivederci.